ok ragazzi ragazzi siamo a fare una tua boschetta ora rimane poco, un po' di condotto pure mi piace non so sono pochi indecisi come è brutto quanto si baggo? ho sentito questo rumore? praticamente ora lo faccio vedere, appena scende tengo su questo materiale andiamo a dare il materiale, automaticamente fa solo questa cosa che non so perché fa così tieni il corno, tieni il corno quindi non so perché fa così prima torno mi sono stati anche un rumore non mi manco qua, non è possibile, sono solo io in seguito mi hanno rimasto un po' scatto, oi che no? stiamo sul materiale, tieni il corno ok, ok, vediamoci già un po' un pino un sacchino che comunque ci serve, è molto importante un sacchino, vai tu e? non ci sta nessuno in scena, non è possibile che nessuno si è fermato? qui con il maverick tu c'è nessun canile, mi scatto sempre a fare voglio perché non vedo il materiale il nostro re, ok, questo pombo qua, ci lo prendiamo non ci sono nei suoi apporti, ma qui... vai tu, non c'è nessuno, non mi fai... ecco, mi faccio il piccolo perché... però ci metto c'è nessuno, io voglio aspettare non c'è nessuno, perché teniamo un... 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 un piccolo... Allora, questa gente che fa, che non sapevo che la gente si tratta di un pochino morto, perciò non è brutta lì. Ok, questa è una camminata, forse adesso mi fa. Non so, io voglio mezzogliare la rete. Voglio un po' di nabba, voglio un po' di nabba. E' un po' di nabba, ragazzi, un po' di nabba, mi sono accaduto subito che è un po' di nabba. Ah, come si è messo in mano con... Non riesco a fare ciò, un po' di nabba, non riesco a fare ciò. Un po' di nabba, non riesco a fare ciò, no? Ok, l'unica cosa... Voglio prendere. Cosa faccio un po' di nabba, voglio mezzare. Guarda qua. Allora, ora, non riesco a fare. C'è un po' di nabba, voglio mettere... Ehm, voglio mettere un po' di nabba che non mi trovo. Guarda qua non mi trovo. Poi era un po' di nabba che si tocca praticamente. Adesso, qua per nabba. Non c'è più nessuno, no? Non lo so, questa è una casa che sono da breghello. Ma va bene. Scassano qua. Non lo so. Non lo so. Ho, ho, ho. Ho ha, ho, ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. non lo so, spazio in seguito, messo fuori con le mani in alto, si per il nuovo è qua giù, posto a fermi immobile, non c'è nessuno che è giù, quando è giù, che si sta giù in seguito, sull'inizio sto pensando in seguito, questa va ancora a trovare in seguito, sicuramente, per questo non si muovere per avviare, su chioppe con un sacchino e dai che sempre si riuscimo a vedere, perché questa è la strada che ho avuto a fare questo, il materiale mi serve di strotto ma già farmi riscontrarlo sempre a così, questo bucchino si stia avvenendo la siffa sicuramente dove cacca ancora, non lo vedo, non lo vedo, non lo vedo, ok, comunque io penso che chi li si arrabbiati in una siffa? penso, è popis, secondo me, ho visto là giù, penso che è popis, penso avvicinare poco poco, annač, su bucchini, chiede bieci, ok ragazzi, spettate, annač, vai giù, annač, ok, a meno ma vista, copito in pieno, grande carol, grande carol, c'è una mostra, vai, vai il re di fortnite, vai, vai con il re di fortnite, spazzimare questo di tutto quanto, chiede su, scassi nei carabas, comunque, un favore me l'hanno fatto, che i pazzi per coppia, capito, subito, subito, la basso non so cosa c'è, non so cosa c'è, non so cosa c'è, non so cosa c'è, se c'è il bind sicuramente, non c'è il bind, che basso questo che è rimasto, adesso che lo mattone contiene un sacco di materiale, avete capito, quindi i mobili, ok, grande carol, vai giù, io a singolo non ho mai avuto una spazio in miei partite, quindi, non credo che questa sia la vingente, però noi ci proviamo, non ho visto l'oggio, se mi sbaglio, non voglio, azzardare a discere, ma secondo me, non ho visto l'oggio, secondo me, non ho visto l'oggio, non mi voglio impressionare, sento ci e botti cecchini, che non credo, ho l'oggio, qui l'oggio, qui l'oggio, qui l'oggio, qui te è morta, no, se ne è scappato là dietro, l'unica cosa, c'è farà così, Tengo paura di morire il secchino perché non so se era chi che teneva il secchino Stanno sparando là, si stanno ammazzando fortemente di qua, Nella sette praticamente si stanno un po' bombardando, quindi qualcuno sa escerà là, vai giù, qualcuno escerà là e non vuole essere a ciappare la rete Aspettate ragazzi, se fanno vivo loro villano, ci sta uno là, vai giù, villano, villano, vai giù, villano Stanno ancora in casa, è possibile, la giusta unica, ma no, quello qua, no, adesso, voglio un'impressione, l'ho già fatto Che l'ho morto, che fino a fatti? L'ho morto in casa, questo non lo faccio, non lo faccio Spero sicuro che non lo faccio, perché è la cosa più brutta Io perciò Zombo sempre Siamo a 16 persone Quindi O la va O la spacca O la spacca Se arriviamo prima, arriviamo a seconda Non lo faccio Sanno sicuro che mi serve più materiale Che quando si arriva Alla fine bisogna costruire tanto Soprattutto se ciappa A uno che è spacciutamente forte E' un po' di più Ma non lo faccio E' un po' di più D'ora, non vedo nessuno ancora Che lo faccio prima, si escono un po' di più E' 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 un po' di più Scusatemi se poi ogni tanto non parlo Perché Mi concentro eh Mi concentro E' un po' di più Se si muovano Si camminano Si fanno i buchini Tutte queste cose Ok Ok, ci stiamo avvicinando Avvicinando a Tomato Town Si, Tomato Town io mi trovo a coccostruntare vedi come vuoi vedi posso neanche così che cazzo buona sta secchino, secchino secchino è per tutto fatto per tutto fatto è un po' d'ansia la mette questo gioco un po' d'ansia la mette qua sotto dietro non viene nessuno c'è nessuno proprio di dietro io mi preoccupo è un'altra cosa hanno avviato baule hanno fatto proprio fritto siamo 15 persone ragazzi qualcuno ha tomato sicuramente mi sto preoccupando ok di là di là maronna vai giù maronna per quanto vai giù mannaggia su un buchino vai giù mannaggia sta nascendo tra secchinate chi l'ha ancora mai sta bene maronna per poco vai giù mamma mia per quanto vai giù quindi chi l'ha che stava a spararla c'è nessuno che stava a spararla quindi non so se ma già fai cazzo ma io mannaggia un buchino giù non so se non so se mi viene da se voglio pure se mi stanno a spararla ok si capiterà prima vi è la cosa migliore da fare loro stanno faiutando sicuramente mi capirei perché chi l'ha da me sta uno vi va alla 6 il è stato un po' di sezione è l'arma che s'è tutto a gioia 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 el'arraga gioia a gioia a gioia a gioia a gioia ma non è un po' di noiri a gioia Trento vai giù, Trento, è nata là, vai, nata là, nata là, aspetta, tengo paura di sempre chiedi la rete, vai giù, fai il cangop, no, c'è lì, la dovete, tengo sempre paura di chiedi la, poteva cercare la pericilla, purtroppo con cecchina sono una figura di merda, ok, ok ragazzi, ne siamo sette, ne siamo sette, le persone stanno parlando, stiamo pure a bella in posizione, quindi si giude proprio qua la sefa, faccia tu, vai giù, già c'è qualcuno, secondo me, quello è nato, vai giù, ok, c'è brutto ancora, andrà a sto posto, a sto posto, ancora c'è brutto, vai giù, perché se mi fa una torre, ecco qua, ecco qua, ora, andrà a cacchino a morti, andrà a cacchino a morti, non basta, stai fermo perché adesso non c'è lì, andrà a cacchino a morti, ora, ora lo stai, ok, ci capitano, ora, ho già fatto la torretta all'occhio, è bello così, io mi ho fatto capire, tutto è qua, non mi riesco a niente, vai giù, vai, l'ha già fatto, è rischioso comunque, pur sì, venga poco e niente perchè stiamo a mezzo ma ho fatto l'autotaglio perchè vengono voglio vengono vengono e come non l'ho fatto cattoletta il bel buono vengono a cursi un pochino vengono maronna mia vengono ok stanno andando in torretto perchè hai rubito la pazzamè stanno andando in torretto perchè hai rubito la pazzamè stanno andando in torretto vengono un pochino è morto non mi rubito la pazzamè non mi rubito la pazzamè mi rubito la pazzamè lo vengono lo vengono non lo vengono non lo vengono lo vengono mi chiamo si mi chiamo il lato ancora non lo vengono la staccia mi sta mi sento che viene qualcuno di te mi fa proprio ok quindi questo si muove la staccia lo vuol dire che questa qualcuno eeeh lo sapevo solo lo sapevo voglio proprio con la mia stanno stanno proprio venendo con la mia staccia capite ah? non c'è nessuno qui faccio il tuo cuore non c'è nessuno qui non c'è nessuno qui non c'è nessuno mi sono detto che sono ancora orata fatevi vedere ok il ragazzo sta là però questo mi cogliamo questo bucchino e non c'è nessuno se c'è nessuno non c'è nessuno qui e io siamo qua a tenere sembra che non c'è nessuno non c'è nessuno sembra che non c'è nessuno sembra che non c'è nessuno non c'è nessuno ma c'è nessuno qui mi cogliere qui c'è nessuno ok c'è questo che mi spara di fronte fa tornare chi è? Tu sai tu son kill la stanza safe ad esempio l'ufu bat l'ufu bat stanza safe vedo i suoi è morto è morto l'ha acceso qualcuno non l'ha già acceso io purtroppo non l'ha già acceso, sta safe che tra poco parte quindi io non so veramente cosa fare ragazzi sono sincero sono sincero non so tengo la safe on google è partita già praticamente ragazzi purtroppo purtroppo ma già strainer invece compagni è per non ti dover un materiale per lo scatto uso non ti dover non ti dover e non ti, manchi i colpi sono guardati sono guardati proprio chi si sta safe praticamente io ce lo dovesse provare ma che prova Una vittoria che volessi fare, una vittoria è merda per farci questo, non tengo neanche un materiale, non tengo. Ok, ora, con questa penansia, sto cambiando un po', non sto un po' a nasciare con me, non c'è pazienza. E per vedere... Ok, qui sta costruendo un'ansia. Chi è che sta sparando l'alberello, perché chi è che sta andando a safe. Come si può far punire un bruco a questo buco? Un colpettino ce l'abbiamo dato, un colpettino. Ma il cacchio è morto. Io mi potessi farlo cadere, sinceramente. Ok, non è male come cosa. Non è male come cosa. Stiamo a 3 luglio, Paschal, Filippi e Andrei. Se ne sono accorto la sostanza materiale, se ne sono accorto. Ecco, come se ne sono accorto. Stiamo 1, 2 e 3 praticamente. Stiamo 1, 2 e 3. Quindi... E non tengo materiale. Si, si, no. Lo che ti combino un pochino. Nel mio caso... Lo che ti combino un pochino. Nel mio caso... Lo che ti combino un pochino. Nel mio caso... Lo che ti combino. Lo che ti combino. Ok, è morto uno. Sono morto. È arrivato il secondo ora. Dove sta questo pochino? No, va giù. Va giù. Va giù. Va giù. Va giù. Va giù. Purtroppo... Purtroppo è andata così va giù. Cioè non teneva materiale. Sapete? Perché non avevo incontrato apparecchia gente. Allora non avevo potuto accedere. Non avevo potuto munizione o materiale. Perché se teneva un materiale sicuramente riusciva a fare qualcosa. E sono arrivato il secondo. Mannaggia. Pombina elettrica. Io penso che ci accontentiamo. Perché arrivare a secondi a singolo non è facile. Quindi... Mi accontente così, va giù. Mi accontente. È stata una bella partita. A meno per me. Mi ha messo un po' granzi. Mi ha scuagliato un po' con corpo. Quindi... Per me va bene così. È più che bene. Ma poteva vincere. Perché stai solo in merda. Non teneva scu... Non teneva un cozzo. Voglio. Non teneva un cozzo. Quindi... Va bene ragazzi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Facete bravi. E mettete un mi piace. Se volete lasciare. Spaccio. Mi sono trovato in seconda. Così. Sono lì. Quindi... Ci vediamo nel prossimo video. Buona giornata a voi. Facite bravi. Ciao.